Buonasera a tutti, oggi lunedì 22 novembre 2021, sono le ore 21.30, faccio questo video al fine di dare le informazioni puntuali e dettagliate sull'emergenza coronavirus ed evitare così che vengano messe in circolo informazioni non veritiere. Come sapete tutti fino a ieri avevamo una situazione di 23 soggetti positivi a Mussomeli, oggi a seguito di alcuni tamponi effettuati nelle ore scorse sono emerse e abbiamo dovuto registrare ulteriori 16 casi positivi, quindi complessivamente ad oggi siamo a 39 soggetti positivi. Rispetto ai nuovi 16 casi positivi, 7 sono bambini che frequentano i nostri istituti comprensivi e 9 invece sono adulti e alcuni dei quali appartengono a nuclei familiari che già si trovavano in isolamento in quanto appunto avevano un familiare risultato positivo nelle giornate scorse. Ovviamente abbiamo immediatamente attivato gli uffici sanitari con i quali siamo in costante contatto e collaborazione, è stata disposta immediatamente la sorveglianza attiva, domani così come prevede il protocollo, faremo i tamponi a 165 bambini delle 10 classi in cui risultano soggetti positivi. 10 classi di cui 7 di Mussomeli, 3 di Sutera. Quindi diciamo 165 bambini, 135 sono di Mussomeli, 30 sono di Sutera che a partire dalle ore 9 ad oltranza fino alle 13-14, questa è la stima che abbiamo, faranno i tamponi presso la palestra comunale di via Madonna di Fatima, quindi vi prego di non frequentare quell'area al fine di evitare ingorghi con le macchine, ovviamente allerteremo i nostri vigili urbani e le forze dell'ordine per darci una mano nelle operazioni di test con modalità drive-in. Questi test servono per fare una verifica puntuale sulle classi e quindi verificare se vi siano ulteriori casi di positività, l'auspicio ovviamente è che invece ci si fermi a quelli già registrati adesso. Mercoledì invece stiamo già predisponendo ulteriori screening da effettuare a tutti gli altri bambini che non sono interessati da sorveglianza attiva, ma per avere prudenzialmente una fotografia aggiornata e puntuale della situazione. Nel frattempo ho disposto questa mattina di concerto con l'amministrazione, con gli assessori al ramo, ho disposto la cessazione della mensa scolastica sia per l'infanzia sia per la primaria che era stata attivata e ho disposto anche la cessazione per questa settimana del trasporto scolastico in entrata in uscita con il nostro autobus scolabus appunto. Quindi sono due interventi che hanno carattere precauzionale ovviamente in attesa di avere l'esito dei tamponi di sorveglianza attiva che verranno effettuati domani e dei tamponi dello screening che invece verranno effettuati mercoledì. Ovviamente vi terremo informati come sempre sull'andamento, vi raccomando la massima cautela, vi raccomando ovviamente serenità, affrontiamo la situazione con la prudenza che è necessaria ma affrontiamola anche con la calma e la serenità che in questi casi è assolutamente indispensabile. Ovviamente oggi abbiamo effettuato anche le sanificazioni in tutti i plessi scolastici per maggiore precauzione quindi stiamo seguendo in tempo reale l'evoluzione dei fatti. Come vi dicevo vi terrò informati, nel frattempo auguro a tutti voi una buona serata.